Un vero e proprio colpo a sensazione è quello messo a segno ieri dal Castelnuovo che ha firmato l'esperto centrocampista Massimo Loviso. 58 partite in Serie A con Bologna e Livorno, 141 in Serie B, quasi 180 in C. Un pedigree dunque di assoluto livello per un giocatore che per qualità ed esperienza sarà la punta di diamante dell'ambiziosa matricola guidata da Guido Di Fabio e che medita riscatto dopo la stagione in Cicol Rende chiusa con la retrocessione ma avendo segnato il gol della vittoria e della speranza nel play-out d'andata col Picerno che poi ha ribaltato il risultato al ritorno. L'arrivo di Loviso compensa la partenza del centrocampista Filippo Forò. Tesserati anche alcuni under come i centrocampisti Filippo Pincelli classe 2001 dalla Berretti del Teramo e Luca Ciarrocchi classe 2002 dal Sant'Omero. Per l'attacco tesserato all'esterno classe 2000 Gianluca Sbordone, cresciuto nella Juventus con due stagioni in D alle spalle, a Mantua e a Chieri. Dopo alcuni raduni per check-up preparatori, il Castelnuovo si ritroverà nel proprio stadio dopodomani, 7 agosto, per dare il via libera alla preparazione. Anche se tra i club di Serie D c'è ancora incertezza dettata dall'assenza di un protocollo per le squadre appartenenti alla LND, essendo oneroso e difficilmente realizzabile quello per le squadre professionistiche. Così dovrebbe radunarsi subito dopo Ferragosto, condizionale d'obbligo, il notaresco di Massimo Epifani. Il presidente Salvatore Di Giovanni e il DS Paolo D'Ercole intanto hanno puntellato l'attacco dopo i colpi grossi, Dos Santos e Banegas. Sono stati tesserati gli esterni Andrea Mancini, classe 96, ex Teramo, Pineto e Francavilla, lo scorso anno in Liguria, a Ligorna, sempre in D, e Lorenzo Marchionni, classe 94, marchigiano di Grottazzolina, ex Monte Giorgio e Fabriano, con esperienze in C a Modena e Gubbio. Giorni dedicati a importanti conferme in casa Pineto, resta in Biancazzurri il centravanti Simone Tomassini, tornato a Pineto lo scorso anno dopo sei mesi a Matelica, difesa blindata con le permanenze del capitano Alfonso Pepe e del terzino Riccardo della Quercia, in un reparto che già si giova dell'innesto di Davide Salvatori. A proposito di difensori, l'ex capitano Marco Pomante, appesi gli scarpini al chiodo, quest'anno sarà il nuovo allenatore della Juniors Pinettese. Prende il posto di Alessandro Del Gallo. Chi non resta a Pineto è il portiere Remo Amadio, che ha firmato per il Giulianova. E' il primo acquisto per la società del presidente Bartolini, che tuttavia è in forte ritardo per l'allestimento della Rosa.